Claudio e Mario di nuovo insieme, la reazione di Juan Franciera Uomini e donne trono gay, Claudio e Mario sono tornati insieme, cosa ne pensa Juan Franciera. È ormai ufficiale, Claudio Sona e Mario Serpa di Uomini e Donne sono tornati insieme. Un ritorno che ha sorpreso tutti i fan del trono gay, soprattutto dopo che la scorsa estate a Juan Franciera, l'ex fidanzato dell'ex tronista, aveva insinuato una storia clandestina con il veronese durante il periodo del trono. Un conflitto che ha tenuto banco nei mesi più caldi, con Mario che ha preso le distanze da Claudio e quest'ultimo che ha respinto tutte le accuse del modello spagnolo. . Alla fine la diatriba si è sciolta come neve al sole e Sona è tornato tra le braccia del suo ex corteggiatore. . Come l'ha presa invece Juan che, tra l'altro, ha fatto il suo debutto in tv nel programma MTV Riccansa. . . L'amico di Stefano Gabban non ha più rimpianti sulla sua relazione con Claudio Sona. . E ha reagito davanti al ritorno di fiamma di Claudio e Mario con una certa diplomazia. . . Cosa penso del riavvicinamento tra Claudio e Mario? In bocca al lupo Mario. Ha fatto sapere se erra alla rivista Eva 3000. . Insomma, il messaggio sembra chiaro, Juan non vuole più parlare di quella storia, è ormai andato avanti e non ha più niente a che fare con Sona. . . Mentre quest'ultimo è tornato tra le braccia di Mario, Juan resta single. . . Sono libero e cerco una persona speciale con la quale condividere le mie follie ha spiegato il modello. . Claudio e Mario di Uomini e Donne, la vacanza insieme a Berlino. . I primi segnali di riavvicinamento tra Claudio Sona e Mario sono avvenuti lo scorso novembre. . Alla vigilia di Natale la coppia ha deciso di dare lannuncio ufficiale del ritorno di fiamma su Instagram. . I due hanno poi trascorso il Natale insieme, con una romantica vacanza a Berlino. . 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 Grazie a tutti.